benvenute e benvenuti a tanda portenissima tanda portenissima è il racconto della storia dei protagonisti e soprattutto delle emozioni del tango argentino eccoci e ben ritrovati a tanda portenissima allora facciamo un piccolo recap di quello che abbiamo detto nella scorsa puntata e stiamo parlando di un artista molto importante che si chiama lucio de mare figlio di ottilia riccio e domingo de mare il piccolo lucio nasce a buenos aires il 9 agosto 1906 all'età di sei anni inizia a studiare musica con suo padre si sentiva un genio ed un sognatore in un'intervista dichiara penso di essere nato per la musica ora da dove viene io non lo so dagli 8 ai 16 anni suona il pianoforte nelle sale cinematografiche e nel 1922 inizia come musicista jazz il bandoneonista enrique di cicco minotto lo introdue introduce de mare nel mondo del tango nel 1925 e lucio iniziò a comporre brani di tango aveva solo 18 anni e quei brani avrebbero fatto veramente la storia del tango andiamo avanti siamo nel 1926 che cosa succede nel mondo muore negli stati uniti di peritonite l'attore di origine italiana rodolfo valentino uno dei più grandi divi hollywoodiani fu inventata la prima televisione nel 1926 in argentina ebbero luogo le elezioni presidenziali il 2 aprile del 22 l'unione civica radicale ottenne 450 mila voti i conservatori raggiunsero le 200 mila preferenze il partito socialista 75 mila consensi e si attestò a pari merito con il partito democratico progressista che ottenne 75 mila voti anche marcello torquato de alvear condusse una presidenza nettamente differente da quella che era stata la precedente che era di polito irigoyenne sia come stile che come contenuto le politiche di trasformazione economica politica sociale che avrebbero caratterizzato il governo di irigoyenne risultarono attenuate se non assolutamente sovvertite come nel caso della riforma universitaria o quando pose il veto al progetto di legge che stendeva il diritto di pensione ad ampi settori di lavoratori cosa che lo mise in netto contrasto con i movimenti sindacali queste differenze portarono ad un confronto tra alvear e irigoyenne creando una profonda divisione interna ognuno dei settori radicali presentava candidati diversi con la carica del prossimo presidente ma questa è un'altra storia la racconteremo poi nelle prossime puntate torniamo nel 1926 dove incontriamo l'usio de mare in quell'anno l'usio inizia le collaborazioni con le grandi orchestre de mare chiede in quell'anno direttamente a canaro di portarlo a parigi canaro fu inizialmente dubbioso ma poi si decise de mare trascorse due anni a parigi e aveva solo 19 anni a parigi presenta i primi suoi due tanghi che erano dandy e magnanita de montmartre a parigi incontra anche rodolfo valentino non ebbe mai il coraggio di parlargli lui era un ragazzino timido introverso si trovò davanti una bellissima star in smoking tutto bianco non aveva mai visto una persona vestita così ne fu profondamente ispirato nelle foto se che potete vedere anche qui nel filmato l'usio appare sempre con i capelli tirati al lucido con la brillantina e la giacca bianca tutto gli sembrava incredibile tutto gli sembrava portata di mano nello stesso anno il 1926 rodolfo valentino purtroppo muore di politonite l'usione fu talmente affascinato che ne fece un modello di vita nel 1927 la sua carriera va avanti e come sempre accade e cercò una propria strada quindi si separa da franzisco canaro e con i cantanti i rusta e fugazot formò il trio i rusta fugazot de mare debuttarono a parigi e continuarono a esibirsi a maria a madrid l'esibizione doveva durare solo due settimane mandò talmente bene che fu estesa per tre mesi così al trio si unirono altri musicisti e ci fu anche tra i musicisti che si unirono il fratello lucas de mare che suonava il bandoneon formando così la tipica orchestra argentina tornarono nel nuovo continente suonarono in vari paesi a buenos aires debuttarono con un grande successo al teatro broadway ma il tour fu interrotto da un incidente che capitò a roberto fugazot che si schiantò in un ascensore che cadde dal terzo piano fortunatamente si salvò si ruppe solo una gamba però dovette portare il gesso per quattro mesi e ovviamente il tour dovette fermarsi nel 1933 debutta al cinema come attore in spagna e poi ancora in un altro film in sempre in spagna nel 34 e poi nel 35 negli stati uniti de mare con il russe fugazot e fugazot ha anche eseguito la musica per molti film de mare di quel periodo ricordo che ricorda che iniziò il loro successo soprattutto con le donne il film andarono bene benissimo ma loro non mi darò mai un centesimo di quella cosa l'esperienza andò meglio al fratello di lucio de mare lucas il quale dopo ulteriori tournée europee sudamericane con l'orchestra tornò definitivamente a buenos aires lasciando il mondo della musica e dedicandosi esclusivamente al cinema nel 1935 lucio torna in argentina e ricomincia a lavorare con l'orchestra di francisco canaro ora era il pianista ufficiale era il primo pianista e in più fece ancora qualche altra comparsa al cinema ma questa è un'altra storia la continuiamo dopo ora bando alle ciance spazio alla musica vi presento la tanda di oggi tanda di vals lucio de mare ci vediamo tra poco ciao grazie a tutti 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 e per le sue le donne la vita l'amore che non mi ha mai mai non sape llorar l'amore e poi ci sono ancora e poi non lo vedremo mai se non si può faremo mai se non si può faremo mai ma la illusione non si può faremo mai l'amore l'amore che non mi ha mai l'amore che non mi ha mai l'amore che non mi ha mai Seguirà la serrazón, però la lucruzione non vendrà mai. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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